Corbi è un distributore di materiali edili all'ingrosso, da noi può trovare qualsiasi marchio e prodotto in edilizia e operiamo sulla parte ritoranea, quindi diciamo da Fiumicino fino a Gaeta, sulla parte dei Castelli Romani e nella parte di Roma Sud. Il mercato dell'edilizia negli ultimi 10 anni si è completamente stravolto, infatti si è passati da costruire nuove abitazioni a restaurare quelle già esistenti. Si parla moltissimo di efficientamento energetico, di cappotto termico e questi sono tutti gli effetti positivi che ha lasciato l'eco bonus, quindi spingere la gente a pensare al sostenibile. Quelli più richiesti ieri sono gli stessi materiali richiesti oggi, quindi sabbia, cemento, calce, ferro e inerti, soltanto che i quantitativi sono cambiati, specialmente per l'avvento dei premiscelati che ormai la fanno da padrone. Comunque sia rimangono una parte fondamentale della nostra azienda. Il prezzo per quanto riguarda la scelta è ancora una discriminante importante, alcune imprese prediligono la qualità e la certificazione del prodotto, altre invece vanno in cerca del prezzo. La sostenibilità per il cemento può essere una qualità in più, sicuramente il fatto di essere sostenibile è già all'età una prima qualità, la ripresenza di materiali sostenibili in rivendita sta crescendo, continuerà a crescere perché le direzioni che ci sta dando l'Europa, le indicazioni che ci dà l'Europa ci spingono in quella direzione, ma attualmente ancora la fa da padrone i vecchi metodi di costruzione.